benvenuti ben tornati in un nuovo video allora oggi il 25 dicembre abbiamo appena finito di aprire dei regali anzi buon natale a tutti quanti buone felicità a tutti quanti quelli che ci seguono iniziamo con aprire bene 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 far vedere i regali che hanno ricerso partiamo come ogni anno regali di alessia paziente e oggi apriamo un posto presentare si può si sparkly critters è una latina tutta argentata è un tipo arcobaleno qua ci sono 15 15 pupsi da collezionare ci sono un set vabbè andiamo ad aprirlo abbasso come si apre c'è la plastichina si toglie ma fai vedere però fin ai piccoli non che mi stanno ricevuto ma non è qua guarda la scoppa mai vedere è trovato quello pulito stamattina è schifo cos'è non si può mettere una penna è cosa dei cani aperto perché era troppo qua ci sono penso che siano le istruzioni poi c'è una freccia qua ah c'è una freccettina che devi aprire ecco qui ci sono le cose è solo questo certo si e la peppa ah bellissimo devi girare ci sono le cose con chiare e e qui c'è la e qui c'è la e qui c'è la e qui c'è il suo biberon molto bella bellissima iniziamo? Molto bella, rimane anche da tenere. Quella è la ciclista, lo facciamo dopo. Ok, iniziamo dalla cosa? No, quella all'ultimo la posti. Questi qui sono le cose per creare lo slime? Questa è tutte le istruzioni che magari ci servono, quindi le mettiamo qua. Sto iniziando ad aprire. Questa è... mi sa che è il sole. È il sole. Ha trovato una palettina con l'unicorno, con il cavallonuccio. Trovato. Guarda, in questa fai così ci metti dentro il colpo e infallati. Ah, questa è la siringa, fa vedere. La siringa è string, string. Ora dovrò prendere le slime. No, questi... No, sono per fare lo slime. Ah, queste sono le bustine per fare lo slime. La coniglietta! Uh, ma che bella! Me la posso vedere un attimino? Il ciuccio si leva? Sì. Allora, presentiamo prima la nuova arrivata. Allora, è una coniglietta, ha gli orecchini qua. Il ciuccio si leva e si mette poi qua. Guarda, ecco. Allora... Allora, è rosa la coniglietta, ha le ciglia, ma che bella! Che è veramente bella! Allora, la testa è bella morbida. Guardate le orecchie con gli orecchini. Sono morbide. All'unicorno, molto, molto, molto bello. Tutti ce li hanno. Dorato, con i brilantini dorati. Questo lo diamo. Ah, sì. Può sedere, si muovono le braccia e le zampine. Ha un tatuaggio... Che belle, sembrano belle! ...una balenottera. Ecco, vanillata. E qua, l'unicorno, ha due tatuaggi molto molto... E qui c'è la sua... Scusate. Sembra un alieno. Oh, ma l'altro. E... Guarda. Il sederino. Con la codina. Molto, molto bella. E' un coniglietto bellissimo. E' un coniglietto bellissimo. E il suo ciuccio... Ah, guardate, veniva così. C'è il ciucciato oro. E poi la scuoti? E poi... Dovrebbe... Dovrebbe... Ah, da qui? E poi? Fai vedere, però, amore. Allora... Qui e poi... Credo... Che si mette... Dentro le cose, qui... Per... Fai vedere. Si dovrebbe... Qui... Si... Dovrebbe aprire... Ma non si aprirà. Allora... Noi abbiamo trovato... C'è il passaggio, ecco. Non c'è... Chi è? E no, non è lei. Ma perché non c'è? Ah, che è... Ah, guarda, dobbiamo prendere un bicchiere, guarda. Oh, che bello. Sì, adesso lo prendiamo un altro. Bicchiere, bicchiere. Che bella questa, questa è bella. Questa è tutta la cicliste. Noi abbiamo trovato... C'è chi? C'è chi? C'è chi? Ed è... Quindi ha il cuoricino. Andiamo a vedere. Uh! No. È una... Normale, regolare. Non è... Non abbiamo trovato un'ultravarà. Pensavo un'ultravarà. Qui si fa bene. Bella questa. Allora, cosa si dovrebbe mettere? Allora, ora passiamo acqua. Non c'è l'italiano. Allora... Bene. Comunque... Ci vogliono... Un bicchiere, perché devi mettere... Bisogna mettere 20 ml di acqua. 20 ml, ma qua non c'è scritto... Senti. Senti. Devi riempire tutto. No, 20 ml. Aspetta. 20 ml, ma non ce n'è. Ah! Lo so quante 20 ml. Guarda così. Vabbè, comunque ha le prime stanghette, stanghette. No, 20 ml è quasi pieno. Perché qua fa vedere così. No, 20 ml... Vabbè. Fatto. Ok. Riempito. Dopodiché... La fai... Inclina la creatura. C'è scritto. Creatura. Inclina e... Ticchia. Posso farlo io? Sì, certo. Ok. No, aspetta. Però non... Aspetta. Ma scusami, eh. Scusate, eh. Può cadere pure il telefono. Rimette i 20 ml nel bicchiere. Avevamo sbagliato. Ma questa è troppo poco. No, no, va bene. Scusate. Poi... Apriamo. Ma no, ma è troppo poco, eh. Non ci stanno questi due cose. Niente. Aspetta. 20 ml. No, ma 20 ml è giusto, giusto, Alessia. Eh. È giusto poi. 20 ml. Poi è giusto 20 ml. Dobbiamo mettere... Presumo perché sono... Capito, sì. Aspetta che... Ah, eccoli qua, brillantini. No, cosa fai? No, ma adesso... Qua sono brillantini. Ma io li faccio così, poi li faccio proprio sopra. Non li faccio così. 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 È tutto in inglese. Sì. Ok. L'acqua lo vuoi lasciare fuori su. Ok. Se l'hai già fatto con la carta, è frutto. Ok. Apriamo. Signore. Allora... Poi dobbiamo prenderlo... Poi metterlo... Ma mi sa che allora c'è qualcosa nel... In questo? No, nel... Perché questo sembrano ancora... Non lo so... Ma questo è proprio lo slime. Ma non so cosa c'è. Aspetta, devo metterlo tutto. Boh. Eh. Basta. Ma aspetta, ce n'è ancora qua dentro eh. Facciamo sempre. Aspetta, devo metterlo tutto. Boh. Pantaloncini. Velocizzerò questa parte qua. Boh. Eh. Ma devi metterlo tutto. Guarda che basta eh. Basta. Devi bisogna metterlo tutto. Non lo so. È una polverina... Magari è dentro qualcosa qua. Non lo so. 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 È una polverina... E poi... Girare, girare, girare. Pensate all'ultimo dovevamo mettere i brevantini. No. Devi scuotere, shakerare. Ah, forse perché c'è qualcosa nella pancia. Poi... Prendere tutto questo. Ah, poi devi massaggiare la pancetta. Massaggiare qua. Aspetta Alessia. E... Ficcare tutto dentro la... La... Il... Posso farlo io? Ficcare... Stai giù Simona? Guarda qua. Ma ti fica il pelle? Se vado io... Aspetta a buttare mamma. Mi aumenta. Ok? Scusa. Allora... Prendiamo tutto questo. mettere il ciuccio c'è sacco qua scusate il casino poi dobbiamo massaggiare la pancia no è dura la pancia come fai a massaggiare? guarda c'è scritto massaggiare? oh si ma è sporco è solo da scopare non è che devi schiacciare no vabbè magari ma io lo sento troppo proviamo? prova limite limite tanto almeno c'è lei no? c'è molto fai a vedere mi sa è vomito ma tu davvero non l'hai messo fuori? l'hai coperto? eh? è molto liquidoso non lo so boh non c'è venuto non è venuto evidentemente abbiamo sbagliato beh ovvio ma non è venuto il gioco è molto bello molto bella lei la coniglietta è molto bella solo che se forse ce ne sono solo tutte le persone in italiano forse avremmo capito di più da qua si fanno vedere tre bustine ma noi ne abbiamo trovati due io lo butto io ho cercato in tutto in qua non c'è niente anche perché non ci sono altre aperture qua e quindi io butto anche questo? si e non ci sono altre aperture da poter guardare qua 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 e niente vabbè niente amici se vi è piaciuto il video mettete un bel like iscrivetevi al canale se potete condividete il video e lo metto nella community il video perché questo qua dovrà passare per bambini quindi ciao ciao vediamo se qualcosa poi riuscirò a mettere ma non sai che la sua voce è tipo ciao lei un po' passato molto bello per adesso questo è fatto molto molto bene non ha sbavature non ha difetti non ha niente solo che lo slime è venuto ah no questo è il mio sopracciglio vabbè un bacione a tutti niente ci vediamo al prossimo video